Musica 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 Qual è l'insidio? Qual è la cosa che temi di più di questa gara? E qui, tu dici, si qualche imponita, c'è qualche punto di domanda? E va bene, allora, tieniti il punto di domanda fino a domanda e poi ci racconti. Lorenzo, lui! Il punto di domanda 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 Ciao! Ciao! Il punto di domanda